Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un bambino di 4 anni sarebbe stato dimenticato sullo scuolabus per ben 8 ore. La denuncia politica, tutta da verificare, è stata sollevata dal gruppo consigliare di minoranza Ricostruiamo Campli, il quale ha riportato lo sfogo di un familiare del piccolo sui social media. La mancanza di informazioni ufficiali sull'accaduto da parte dell'amministrazione comunale ha suscitato in una prima fase lamentale richieste di scuse pubbliche e sostegno alla famiglia del piccolo, come affermato nella nota rilasciata dal gruppo consigliare. L'amministrazione comunale ha però prontamente agito, inviando una formale richiesta di spiegazione alla ditta responsabile del servizio di trasporto scolastico. La società ha comunicato che l'operatrice coinvolta nell'incidente è stata sospesa dall'incarico e che si stanno valutando l'adozione di eventuali azioni legali. Il sindaco ha sottolineato che l'amministrazione comunale è in costante contatto con la famiglia del bambino, e si riserva ad intraprendere tutte le misure necessarie a tutelare la famiglia, il minore e l'amministrazione stessa. È fondamentale per l'amministrazione comprendere appieno insomma quanto accaduto e ottenere spiegazioni dettagliate dalla ditta coinvolta. Si lavorerà finché situazioni del genere non si ripetano in futuro e si metteranno in atto tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Il sindaco Federico Agostinelli ha concluso la sicurezza e il benessere dei nostri bambini sono la nostra massima priorità. Siamo determinati a garantire che episodi come questo non si verifichino più e che ogni misura necessaria sia presa per tutelare le famiglie minori e l'amministrazione comunale. Lavoreremo instancabilmente affinché il servizio di trasporto scolastico rispetti gli standard di sicurezza più elevati e offra tranquillità a tutti i genitori della nostra comunità.